Mi trovo a Rutino in occasione della serata finale del brand Rutino in Cilento, serata di gala, incontriamo il giornalista Rai Rino Genovesi, il quale ritira proprio questa sera un riconoscimento convenitogli appunto da questa manifestazione. Andiamo a riconoscere tutta la nostra gratitudine perché è veramente stato capace di sintetizzare tutte le bellezze del nostro paese, di renderle così belle, così accattivanti, così avvincenti che poi ha fatto sì che noi avessimo riconoscimenti da ogni dove devo dire, veramente sei stato bravissimo e noi di questo ti ringraziamo, ma ti ringraziamo anche perché come giornalista sei impegnato tutti i giorni a scoprire le aree interne della campagna che noi consegniamo all'amico Rino Genovese come segno della nostra gratitudine e della nostra riconoscenza. Grazie, grazie, ovviamente sono meraviglioso, mi grazio io, te Giuseppe, voi comunità di Rutino, io non faccio nulla di straordinario in realtà, mi limito a raccontare la meraviglia che ci circonda, noi siamo fortunati perché abitiamo in un angolo di paradiso. Rutino come tutti i borghi del Cilento è un angolo di paradiso che compone la nostra meravigliosa regione Campania, io non mi meraviglio più della bellezza che mi circonda, ogni volta che vengo nel Cilento, ma anche nel Vallo di Diano, negli Alburni, e trovo delle particolarità che mi convincono sempre di più del fatto che possiamo veramente puntare sulla promozione turistica, sulla promozione ambientale, sulla promozione del nostro territorio per un futuro vero e grande di sviluppo delle nostre terre. Rutino è la città del volo dell'angelo, ma è una città di grandi percorsi di fede. Rutino è l'unico borgo dove c'è una testimonianza fisica della traslazione del corpo di San Matteo. La Fontana Miracolosa, che tra l'altro è stata inaugurata pochi mesi fa e può diventare un punto di riferimento tra i percorsi di fede della nostra regione, è la città di un borgo medievale meraviglioso, della Colombaia, della chiesa di San Michele Arcangelo, è un borgo che ci può far sentire orgogliosi di essere campani. Non c'è nulla di più importante che promuovere il nostro territorio. Noi siamo fortunati, siamo nati in un territorio che ci è stato consegnato dalla natura, che è stato costruito meraviglioso dai nostri avi, che è stato impreziosito dalle coltivazioni dei nostri contadini. Abbiamo il dovere, l'obbligo morale di farlo conoscere all'esterno. Io mi sto rendendo conto con il TG Delante che basta semplicemente rappresentare, rappresentare bene i nostri territori per far innamorare letteralmente i nostri spettatori e quindi catalizzare il turismo nelle nostre zone. Il Cilento tra poco, con l'inaugurazione nell'aeroporto di Ponte Cagnano, che oggi si chiama anche di Costa d'Amalfi Cilento, diventerà davvero un luogo privilegiato per un turismo che diventerà anche internazionale. Quindi bisogna prepararsi bene per essere appetibili anche dai grandi tuber operator mondiali. Voi avete scelto un nome meraviglioso che è quello di una terra meravigliosa, che è il Cilento, allora di cuore un mondo, un mondo di in bocca al lupo e un saluto affettosissimo a tutti gli amici di Cilento Channel.